Bentivegna al tiro, la rispetta! Soltanto due gol nell'amichevole giocata a Silvi Marina contro la Coriacea, Renato Curiangolana, team di eccellenza. Una rete per tempo, assegno nelle immagini, Staber che ha bissato la rete realizzata nella prima uscita di otto giorni fa a Palena e Sasanelli che a breve sarà girato in prestito a Messina. Assenti, Colai, Tommasini, Piga, Squizzato e Meazzi. Hanno debuttato Bentivegna e Cangiano. 4-2-3-1 a destra, continua a mancare un terzino di ruolo, anche se Staber, a prescindere dalla rete siglata, ancora una volta si è ben disimpegnato. Mercato in arrivo, Dabiani in prestito dalla Palermo, il centrocapista sarà a Pescara la prossima settimana. Urge col mare, come già ricordato, la lacuna sulla fascia destra. Per Lemmens c'è da giorni l'intesa totale con Lecce, ma si registra una frenata da parte del calciatore belga lo scorso anno in B a Lecco. Lemmens non ha ancora sciolto le riserve, non per la piazza, ma per la categoria. Si nutre comunque fiducia. E poi l'operazione ben impostata con il Crotone, ma ancora tutta da definire. I terzini, Leo e Crealese al Pescara, Tommasini al Crotone più con guaglio a favore della club biancozzurro. Intanto, ieri, l'esordio di Accursio Bentivegna, espressamente richiesto da Silvio Baldini, che lo ha allenato per tre stagioni, dal 2017 al 2020, in Serie C, alla Carrarese. Lo ritrovi a distanza di qualche anno? È cambiato, assolutamente no? No, non è cambiato. È sempre lui, è sempre quello che ci mette l'anima, sia in campo che fuori dal campo. Parliamo anche delle tue caratteristiche, perché tu sei un giocatore molto duttile a quello che ci hanno detto. Tecnico, puoi giocare a sinistra, a destra, nel 4-2-3-1, anche da sottopunta, alle spalle dell'attaccante centrale. Sì, io gioco dove mi dice il mister. Io non mi creo problemi, io sono a disposizione del mister e della squadra. Posso giocare sia come seconda punta che come esterno. Promessa del Palermo, siamo informati, era insomma gettonatissimo. Poi tra l'altro hai fatto tutte le rappresentative nazionali, hai sfiorato l'Under 21. Che cosa è successo poi? Perché insomma hai sortito in Serie A, hai fatto sette presenze con Iachini, il debutto il 31 agosto 2014, hai giocato con Dybala, insomma voglio dire con gente importante, con Gaston Brugman sempre a Palermo. Poi? Sicuramente quando si è giovani si sbaglia sempre qualcosa. Sia per quello sia per infortuni gravi che ho avuto precedentemente e quindi non mi hanno permesso di fare quel salto che comunque anche magari degli sbagli che ho fatto io su determinate cose, anche in campo non lo so, magari c'è poca esperienza quando si è più piccoli quindi anche per quello. Senti lo scorso anno a Juve Stapia, a Juve Stapia insomma ci sono stati negli ultimi anni, a gennaio si è andato a Novara, hai fatto bene comunque, 18 presenze, 5 gol, rammaricato di aver lasciato la squadra che poi ha vinto il campionato ed è stata una grandissima sorpresa, un po' come il Mantova nel Gironia. Un po' sì, ma purtroppo è una scelta che dovevo fare perché ho avuto due piccoli infortuni uno dietro l'altro e quindi dovevo mettermi di nuovo in forma per giocare e appunto rimettermi in forma per essere pronto appunto quest'anno. Senti ma quante volte ti ha chiamato Baldini prima di accettare? Un bel po' di volte.